Buonasera, tra poco una nuova puntata di campionato dei campioni, tantissimo calcio mercato con le notizie per quanto riguarda il mercato di riparazione e poi lanceremo dei sondaggi che è stato il miglior allenatore, la miglior squadra, il miglior portiere, il miglior difensore, il miglior centrocampista, il miglior attaccante del 2012, la miglior rivelazione ma anche il bidone d'oro del 2012. Naturalmente potrete votare voi e poi faremo il punto su questo panettone amaro per quanto riguarda le due squadre milanesi, in particolar modo il Milan con cui apriremo la trasmissione a riduce dal grave KO di Roma. Tutto questo e molto altro ancora tra poco al campionato dei campioni, vi aspetto. Domenica 23 a dicembre, buonasera, bentrovati all'ultima puntata di questo 2012 del campionato dei campioni, tanti temi che svilupperemo in quest'ultima puntata, in particolar modo il calcio mercato ma anche un simpatico sondaggio che poi andremo a vedere in chiusura di trasmissione. Saluto subito i miei compagni di bordo per questa puntata, Alessandro De Michele, Poker Star, ciao Alessandro, bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Perché con lui come sempre, come ogni domenica, andremo a scoprire i segreti della poker e bentrovato anche a Giancarlo Besana, buonasera. Buonasera a tutti. Complimenti per il look, non faccio ironia. No, no, io sono un uomo elegante. Il mio pinguino, Giancarlo. Per tutte le notizie di mercato, Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buonasera a tutti. Stavolta ti abbiamo spostato nella postazione degli ospiti. Ben ritrovato anche ad un attappirato Alessandro Iacobone, dopo il K.O. di ieri sera del Milan. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ben ritrovato tutti voi, grazie per il regalo da parte degli Allegri, il regalo di Natale. Grazie, grazie. Lo mangia comunque il panettone, siamo sicuri. Ormai. Eh, mi sa di sì. Mi sa di sì. Io speravo nelle olive ascolane, ma a quanto pare... Ben ritrovato anche Francesco Facchini, direttore di Calcio Lab. Ciao Francesco, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera a te Stefano. Il mio unico compagno di bordo per quanto riguarda la postazione è Andrea Eusebio. Io non ho mai grado, non ci saranno la spazio. Ciao Andrea, ben trovato. Buonasera a tutti voi, ben trovati. Le ultime news dal mondo del web e poi tanti messaggi che hanno risposto oggi ai sondaggi che abbiamo lanciato questo pomeriggio sulla nostra fanpage di Facebook Campionato dei Campioni. Niente donne Giancarlo, mi spiace. Niente donne, tutti uomini, dai. Sono già in vacanza. Magari a casa non saranno contenti, ma è così. Alessandro Iacobone, cosa resta, cosa dire soprattutto della figuraccia ieri sera del Milan-Roma. Si è conclusa il primo tempo praticamente sul risultato di 2-0, si è andati addirittura su 4-0. Poi Milan ha recuperato nel finale, ma insomma è un risultato sicuramente negativo per questo Milan. Vediamo anche la classifica. Ci siamo illusi dopo una serie di risultati positivi ottenuti comunque con pagine decimamente inferiori alla nostra e ci è creduto in questo ottimismo che poteva portare a dare una ventata di entusiasmo che coinvolgesse i giocatori. La verità è che al primo incontro dove la formazione avversaria ha una qualità superiore, è soprattutto un'organizzazione tattica superiore, nonostante Zeman abbia milioni di lacune, soprattutto in fase difensiva ci siamo ritrovati di fronte all'area Abdaia. Ecco, chiedo a Luca Valtorta di lasciarmi questa grafica speciale, chiedo a Giancarlo Besana da cosa sono uniti questi tre allenatori, José Murigno, Massimiliano Allegri e Stramaccioni che mangeranno davvero un panettone molto. Da flop e mezzi flop, clamoroso quello di Murigno, il più clamoroso di tutti, comprensibile quello di Allegri, per le notte ragioni, perché ovviamente il Milan non è qualitativamente all'altezza, per esempio, della Roma, e ieri abbiamo avuto la riprova, anche su Stramaccioni ombre riserve. Da parte mia, critiche le ho già esposte e magari se vuoi anche brevemente te le anticipo, o fuori posticipo, dipende da come vuoi, su Stramaccioni avevo già detto che non dovesse fare il fenomeno che smettesse di fare il fenomeno, inteso come questo girare vorticoso a livello tattico di pedine, eccetera, non mi è mai piaciuto. Dopo ci andiamo, dopo ci andiamo. Dopo? Dopo, dopo. Mi anticipo una subito? Vai. Quando ho visto Kivu fare il Pirlo, quando ho visto Kivu fare il Pirlo davanti alla difesa, Pirlo si intende come andare a Pirlo reggirà. Si, fare il Pirlo, però con chiarezza, quando vedo assurdità, bestemmie tattiche di questo tipo, non posso essere d'accordo col mio allenatore. Va bene, intanto abbiamo fatto un regalo di Natale ai tifosi delle ultime tre squadre in classifica, perché nel momento in cui vai in onda la classifica, viene coperta da quell'alberale di Natale, non si vede il punteggio, quindi è una sorta di regalino di Natale che abbiamo fatto alle tre squadre. Va bene, sorridiamo. Francesco Facchini, c'è un panettone un pochino più amaro degli altri per questi tre allenatori? Beh, il Murigno è vicinissimo all'esonero. Secondo me è vicinissimo all'esonero. Non lo mangia, scusate. Non lo mangia un panettone, scusate. Potrebbe non mangiare, non so cosa si preveda all'epifania in Spagna, ma insomma potrebbe, diciamo così, potrebbe trovare carbone nella calza. C'è un'ipotesi che arriva dalla Spagna, Andrea. Sì, tra l'altro è un pezzo scritto proprio dal nostro Francesco Facchini perché appunto lancia l'idea Zidane, è un'idea già presente da parecchi giorni nella mente di Florentino Perra. Siamo Niccolò Schira. Zidane è un'ipotesi percorribile per la pancia della Palla? Sì, è un'ipotesi che comunque ci sono dei problemi anche di natura economica perché Murigno ha un contratto fino al 2015 molto alto e quindi difficilmente si dimetterà. Potrebbe essere esonerato ma comporterebbe una gravissima spesa da parte del Real Madrid perché comunque dovrebbe pagare lo stipendio a Murigno fino al 2015 per trovare un accordo per la recessione dietro l'auta buonuscita. Sicuramente Zidane è stato il consigliere di Florentino Perez negli ultimi mesi, è una figura che però ha anche ottimi rapporti con Murigno. Dunque da questo punto di vista bisogna stare attenti. Alessandro De Michele oltre ad essere un grande esperto per quanto riguarda il poker è un tifoso juventino. Molti tifosi della Juve speravano di prendere il Real Madrid nel sorteggio di Champions. Anche tu. Stupi di loro, no? No, no, assolutamente. C'era una scelta sicuramente più alla portata. Tutto sommato è andata bene. Sì, ma guarda ti dico, tra parte il Real che era veramente quella da evitare, in realtà nonostante non stia attraversando un mondo, c'era la Coppa, sai, sai che vince la Coppa a Real, eh? Potrebbe tranquillamente, insomma, Celtic, Galatasaray anche eventualmente. La cosa più terrificante dell'ambiente madridista è questa, non sono nemmeno i 16 punti dal Barcellona, sono i 7 punti dall'Atletico Madrid, che è una notizia epocale, perché non capitava veramente da decenni che si girasse alla fine dell'anno con l'Atletico Madrid così spudoratamente più avanti. Ed è una cosa che Perez non sopporta. Torniamo però al fronte rosso-nero, perché un'altra questione l'ha sollevata Massimo Ambrosini, no Andrea? Sì, perché ieri sera dopo la partita tanti parlavano comunque dei quattro risultati positivi del Milan, delle quattro vittorie consecutive. Ci ha pensato il capitano Ambrosini a far tornare tutti, diciamo, sulla terra in quanto ad autoesame, perché dice che dopo quattro vittorie sarebbe stato da incosciente di credere di aver risolto tutti i problemi, perché nelle prime partite abbiamo fatto troppi errori. Cerchiamo di avere un quadro generale della situazione per ripartire e fare un girone di ritorno dal sapore diverso. Oggi, riferito alla partita di ieri con la Roma, era una partita da non perdere, da giocare in modo diverso. Ci spiace, ma dobbiamo ripartire. Andiamo a vedere i tre problemi da risolvere nel Milan. Da giocare in modo diverso. La leggo anche come una critica all'allenatore. Grazie, la regia è sempre molto pronta. I problemi da risolvere nel Milan, i calci piazzati in fase difensiva, il partner in avanti per il Sharawi, un modulo che di fatto Jacobone non è ancora definito. Oggi non capiamo se il Milan deve giocare con il 4-3-3, con il 4-3-1-2. Come deve giocare? In verità sono tre anni che non abbiamo un gioco. Prima ci fossero già i vari Ibrahimovic, il Sotego Silva a risolverci le situazioni, il Cassano a passare le palle attraverso le gambe dei difensori e mettere davanti alla porta i vari Boeteng e Nocerino. senza di loro, con una previsione di operamento a livello qualitativo, futuro, con l'accessione addirittura di Rubinio e Pato, non so quale potrebbe essere il nostro futuro. Mi state piacendo questa sera, davvero molto sintetici. Anche Giancarlo Besano è questa la notizia. Adesso parliamo di Poker Star con Alessandro per parlare un po' del rapporto tra poker e sport. Quanto conta l'allenamento nel poker, nel gioco online? È un terreno ideale per iniziare a fare un po' di pratica? Beh sì, sicuramente prima di iniziare a giocare live, giocare online sarebbe la palestra ideale perché online puoi immaginare, non c'è qualcuno che ti distribuisce le carte ma c'è un software autorizzato, testato da società di revisione che le distribuisce alla velocità della luce e quindi c'è modo di giocare tante più mani in molto meno tempo e soprattutto lo si può fare anche gratuitamente all'inizio perché ci sono i cosiddetti tornei di play money oppure ci sono i free roll che distribuiscono premi anche in denaro, chiaramente in quantità ridotte ma non hanno un costo di iscrizione oppure lo si può fare per cifre modiche cioè se Besano vuole investire 5 euro nel poker può farlo tranquillamente. Puoi permettere, garantito che posso permettere. Ho una curiosità, stai giocando, noi non ci offendiamo. Adesso no, no, no. Vedo che se hai portato il tablet magari... Lui può fare un attento che ci fa compagnia vince qualche migliaia di euro. No, sono multitasking, diciamo ancora. No, sono sul sito di intellipoker.it ma credo che se ne parlerà magari più tardi. Sì, ne parliamo assolutamente più tardi. Naturalmente tra poco dovremo parlare anche di poker con Alessandro. Volevi aggiungere una cosa Giancarlo parlando del Milan a quanto detto da Jacobone evidenziando magari anche le problematiche della squadra di Allegri. Ieri sentivo Boban in una trasmissione concorrente. Sono d'accordissimo con lui, che trovo sempre molto centrato nei pronostri. Boban ha letto negli occhi dei giocatori del Milan, non solo sull'atteggiamento in campo, una scarsa concentrazione, una scarsa dedizione. C'è anche questo da sottolineare. Nello specifico della gara di ieri, l'atteggiamento dei calciatori del Milan, l'approccio alla partita, come ho già detto con un termine che non mi piace, non è stato assolutamente dei migliori. Anzi, non è che è stato assolutamente censurabile. Dopodiché c'è un discorso complessivo, cioè un discorso di base di scarsa qualità. Questo l'abbiamo sempre detto. La Roma era molto più forte a livello qualitativo, ma aveva anche più volontà e più voglia di fare. Dobbiamo andare in pubblicità. Ci vediamo tra poco, Nicolò, ti ho fermato, perché tra poco il tuo momento ci devi dire tutto sul mercato del Milan, perché avete visto il nostro titolo, il Milan ha fatto una figuraccia, dunque potrebbe cambiare il mercato del Milan, come ve lo diremo tra poco. Il mercato del Milan, come potrebbe cambiare? Innanzitutto vediamo l'agendina, Nicolò Schira, che siamo riusciti a recuperare anche grazie all'aiuto del nostro amico Carlo Pellegati, perché Gagliani è partito proprio in queste ore per il Brasile, dove andrà di fatto a trattare la cessione, che da quello che mi dicono è molto probabile sia quella di Robinho, ma anche quella di Pato. Non so se dopo Andrea ci riesce a recuperare la dichiarazione del presidente del Corinthians, perché mi sembra davvero che queste due trattative non siano delle bozze, ma siano già delle trattative vere e concrete. No, no, ma infatti ne abbiamo parlato anche in settimana, sono delle trattative assolutamente ben avviate, sia da parte dei giocatori, che hanno manifestato il proprio gradimento a tornare in Brasile, sia da parte del Milan, che comunque vuole fare cassa con il cartellino dei due giocatori, il Flamengo o il Santos per Robinho sono pronti ad intervenire pesantemente, Robinho preferirebbe il Santos, però al momento offre maggiormente di più la compagine rossonera del Flamengo, mentre per ciò che concerne Pato, poi vedremo fra poco le dichiarazioni sia del presidente che del tecnico Tite, il Corinthians si è aperto le porte ufficialmente. Ma è in entrata? Eh, bravo, il tifoso del Milan si è venuto quello. Previamo le patoste, sì, ci buttiamo sul mercato per vendere gli unici giocatori con la base del mercato. Poi bisogna stare un attimo attenti, perché non è che il Milan poi andrà ad incamerare le grandi cifre Giancarlo, incasserà se va bene da Rovigno e Pato 25 milioni, perché non sono tantissimi. Cerchiamo Facchini di decifrare un attimino anche le dichiarazioni di questi ultimi giorni da parte di Gagliani. Di fatto hanno fatto intendere i dirigenti, ma anche lo stesso Allegri, che c'è già un nome sull'agenda in entrata per il mercato del Milan in avanti. Ti sei fatto un'idea o no? Che pare che sia un giocatore che ha già giocato la Champions quest'anno. Ma non è Ballotelli almeno a sentire il dottor Berlusconi. A me quello che preme dire però è che voi continuate a guardare al negativo questo finale di campionato, che è una cosa che bisognerebbe dire dopo mille, mila anni di sprechi, cioè che le società italiane di calcio, le top, stanno bene economicamente, che è una cosa che magari stride con i risultati sportivi, caro Iacobone, però il tuo caro patron dopo aver sperperato per non dire altro decinaia e decinaia, come dicevano quelli della notte, di milioni di euro per fare lo show, diciamo che si è messo in carneggiata. E così l'amico Moratti, e così anche i dottori Bianconeri. parliamo di calcio e come tifoso voglio vedere i risultati sul campo. Ma qual è la questione? Drogba? 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 Vuoi drogba? Per far cosa? Drogba? Se non avrete dovuto vendere. Ma che ce ne fai? Particolarmente in fevolato. Andiamo a vedere gli obiettivi di mercato del Milan. Devo comprarmi il 24 ore, solo le 24 ore per vedere i bilanci, non vedere i risultati sportivi, ditemelo. Perché c'è almeno... E' ricontento che... Iacobone a Natale ti puoi eccitare con questi nomi. Strootman, Nainggolan, Kucca, Drogba, Balotelli, che è il 50% del giovane Weiss del pescavo. Non vorrei mi andassi in depressione. Ma so che sono eterosessuale al 100%, non ce n'è uno carino neanche. Neanche se fosse mosesuale potrei eccitarmi per uno di questi. Le donne Drogba piace per esempio. Drogba, purtroppo ha fatto il suo tempo. E veramente un approdo di Drogba al Milan sarebbe l'offesa alla nostra intelligenza. Però per aver mandato via Ibrahimovic per il suo pesante ingaggio, prendere un 35enne, quindi che va a stridere con l'obiettivo del Milan di ringiovinimento di crescita, cioè sarebbe veramente ridico. Nicolò, schiena mi devi però spiegare una cosa. Perché ci sono su questo elenco soltanto centrocampisti e attaccanti, non c'è un difensore anche... Perché non hanno capito il problema. Il Milan ha subito 26 gol, come si è l'ultimo in classique. Vero, ma vero anche che sul mercato non ci sono grandi difensori. Stefano, il problema è questo, se devi fare un investimento importante, il Milan l'ha individuato in Benatia, ma l'Udinese lo dà via solo a giugno. E costa comunque 10-12 milioni di euro. Dunque, anche in questo caso, comunque l'investimento è assolutamente ridotto. Voglio fare subito una domanda ad Alessandro, però, anche al tifoso juventino, lo faresti uno scambio Mex-S, visto che la Juve sarà un difensore centrale... Subito no! No, con Matri? No, con Matri. No, scherzi, no. No, assolutamente. No, no, no. Uno è un obiettivo del Milan. Guarda che Peduzzi ha infilato due cose, una meglio dell'altra, perché sono due cose molto possibili. Ma appena gli ho fatto il nome di Mex-S ha detto no. No, prima di sapere la qualsiasi. Da Juventino preferisco... L'altra volta mi volevi rifiare... Non portano bene i difensori da Milano sul fronte bianco-nero. Guarda, abbiamo visto l'esperimento Lucio. Cioè, prendere magari... Cioè, prendere, non so, un difensore giovane da far crescere con Barzali, Bono, Cicchellini, Teneroli, ma, cioè, Mex-S, Bono, non lo so. No, Meluso. Scusa, Stefano, Mano. Perlucio ne arriva, dopo parliamo anche di Mercato Juve. Eh, va bene, Andrea Eusebio. Aspetta, arrivo, arrivo. Sì, intanto questa è una notizia che appunto riporta la Gazzetta con il Milan che è stato interrotto nella sua corsa alle prime posizioni che si attacca al mercato, anche un po' di statistica. Questa è l'home page di milannews.it con appunto il mercato, i tatticismi di Gagliani. Tra poco, Stefano, ti riporto poi con le frasi di Gagliani riguardo al suo viaggio in Brasile. Quando vuoi, assolutamente. Sembra un cinepanettone, Gagliani in Brasile. Ma, scusate, cito un altro giocatore che stimo molto per la sua opinione. Giancarlo Marocchi. Quindi, quando non so, mi recito il cito. Allora, che ader giustamente... La voglia di cambiare televisione, Sì, sì, ma non c'è problema. No, no, no. Dillo che... Besana lo scambio con chiunque. Rescindiamo, rescindiamo. Lo scambio con chiunque. Adesso telefoniamo all'altro, i tuoi diciamo, Besana per... Besana ha più soldi per Marocchi. No, ma anche un qualche... un qualche opinionista di qualche altra tv locale. Besana è un top player, e ora ce lo teniamo strassi. Eccoli, vedi, bravo. Bravissimo. Ha bisogno di un passaggio. No, l'esperto di mercato. Non a caso, lui è l'esperto di mercato e non farebbe il canto. Giancarlo Marocchi, contro l'opinione di generale, guardavano tutti davanti in Milano, in centro campo, ha detto, signore, in Milano, i problemi di A, dietro. I due centrali hanno fatto ridere ieri. L'alternativa non ci sono. Acervi, acerbo. Faccio il gioco di parole stupido. Allora, vedo in questo mercato... che il Milan non ha capito nulla, non ha capito che deve difendere, innanzitutto rinforzare la difesa, come hai detto giustamente e tu l'hai ricordato, è peggio di quella di Sera. Sì, ma serve anche un centrocampista che faccia filtro davanti alla difesa. perché poi si difende i pubblici. Ma qui, qui c'è un atteggiamento qualunquistico che il mio amico grande Brera stigmatizzerebbe. E allora, c'è un atteggiamento qualunquistico, si guarda prima l'attacco, queste fole qua, bisogna fare un gol più dell'avversario. Comincia a non prenderli, la Juve vince perché dietro sono di ferro, di grado, dietro, quella difesa non passa nessuno. Allora, andiamo da Andrea Eusebio perché abbiamo le dichiarazioni di Gagliani prima di imbarcarsi per il Brasile. Proprio così, al di là dell'obiettivo stagionale di cui parla Gagliani che è il secondo posto, non al terzo, dice lui, riguardo il suo viaggio in Brasile, lui dice un viaggio programmato da mesi, sarà lavoro e non vacanza. Ci sono due trattative in corso per Pato e Robinho hanno chiesto loro di partire. So già cosa potrebbe succedere nel caso partissero. Queste le parole di Gagliani. Posso replicare. Quello che abbiamo detto in dieci secondi però, Alessandro. In dieci secondi. Allora, sono due offese alla nostra intelligenza. La prima è sul fatto che il secondo posto dopo la figura di ieri ancora ci propina questo puntare al secondo posto è veramente ridicolo. Non è motivante. Poi di punti ne mancano tanti. Secondo, secondo è un errore proprio cioè come dirigente massimo di una squadra tu dichiari ufficialmente che due giocatori vogliono andare via. Con che forza entri sul mercato? Quindi questo è proprio un errore da dirigente tra l'altro Dice anche che il viaggio è programmato da mesi quindi da quanto tempo ero vigni fatto? L'agenda di Gagliani è solo appena più confuso di quella di Monti. C'è anche una questione personale. Sai che adesso c'è solo l'agenda l'agenda di Gagliani mi ricorda quella di Monti e non l'ho capito. Va bene, un Milan che comunque vuole guardare i giovani ha detto anche Barbara Berlusconi vuole puntare i giovani magari anche i giovani stavo facendo un lancio a Poker Stadio che puntare i giovani era a Freudiano va bene parliamo ora invece della scuola di Poker Stadio parliamo della scuola di Poker Stadio Intelli Poker che è l'equivalente Alessandro di una scuola a calcio Besanataci beh allora sul sito su www.intellipoker.it ci sono diciamo diverse sezioni in cui è possibile imparare a giocare cioè se non altro confrontandosi con i professionisti piuttosto che comunque con giocatori più esperti si possono sottoporre tutta una serie di diciamo di quesiti sia riguardanti mani giocate che un approccio magari strategico al gioco stesso cioè a che livello giocare che cosa giocare sono sezioni dedicate a seconda che si giochi cash game mtt sit and go e poi ci sono anche i pro del team di Poker Stars che diciamo consentono la partecipazione a degli allenamenti interattivi si chiamano anche io ogni tanto ne organizzo qualcuno facciamo un esempio sostanzialmente io analizzo con dei software ovviamente cioè che uso per studiare il mio gioco e quello dei miei avversari analizzo ex post le mie sessioni di gioco poi scelgo alcune situazioni che ritengo essere interessanti e organizzo sostanzialmente online delle lezioni di una durata degli allenamenti interattivi i software scusi saranno graduati cioè ci saranno vari vari step di software ce n'è uno e poi chiaramente di difficoltà gradi di difficoltà ce n'è uno che ti permette di scegliere le mani più o meno complesse da analizzare e lì con un meccanismo diciamo di interazione cioè c'è una chat in cui le persone possono scrivere le loro domande perché hai fatto questa mossa perché hai fatto quest'altra insomma è un'oretta che si passa insieme ma c'è un momento specifico della settimana come possono sapere i nostri amici a casa quando poter allenarsi con te su interipoker.it vengono pubblicati all'inizio del mese i calendari siamo tanti comunque siamo già 7-8 persone che organizzano tra l'altro allenamenti di varie discipline cioè c'è chi che è esperto di cash game e quindi organizza quelli io mi occupo dei satelliti per la partecipazione ai tornei dal vivo diciamo che sono quelli che danno un po' più di un coach anche abbiamo un altro mister 10 secondi Nicolò Schiro alla chiusura del blocco chi arriverà nel Milan? sbilanciati fammi almeno uno o due nomi allora di questi nomi l'ipotesi più facile al centrocampo è quella di Kucca perché sappiamo gli ottimi rapporti fra Milano e Genoa è un giocatore in uscita dal Genoa non costa tantissimo ha un ingaggio basso è un mediano stile De Jong anche se le caratteristiche non sono similari ma comunque è più un giocatore di quantità che di qualità in attacco se Drogba abbassasse le sue pretese potrebbe essere un'opzione praticabile visto che la Juve la mollata ci vediamo tra poco per fare il punto dell'Inter e il mercato tra poco ecco concludiamo il tema Minan con le dichiarazioni del presidente del Corinzias Andrea Eusebio si dice Mario Gobi il presidente della squadra campione del mondo ci sono state delle discussioni stiamo valutando la situazione di parto vedremo quel che accadrà e poi la vena di romanticismo è come se avesse invitato una donna a cena siamo ucciti per la prima volta non voglio creare aspettative ma abbiamo denaro a sufficienza e stiamo considerando le nostre opzioni uscirà con Gagliani oh madonna Gagliani a borro va bene abbiamo fatto il punto su quello che non va in casa Minan vediamo invece nella grafica i problemi dell'Inter Inter che ieri ha pareggiato in casa contro il Gena Moratti dice ormai è inutile parlare di Scudetto visto i tanti punti che ci dividono dalla Juventus i problemi principali da risolvere a gennaio nel mercato e non solo l'assenza di un vice milito la mancanza di qualità in mezzo al campo soprattutto con le squadre medio piccole e gioco che tuttora è ancora assente a Stramaccioni non piace la definizione di un Inter provinciale però di fatto un Inter che è quella che ha fatto i punti e giocando da provinciale in modo intelligente che aveva fatto quel filotto anche assistito da un brisolo di fortuna perché senza quella una squadra con un grandissimo qualità non grandissimo qualità non poteva fare altro insomma io consento su tutti questi punti sull'assenza del vice milito gravissima questa lacuna conveniva anche Stramaccioni prima di incappare in questa miniserie negativa sulla qualità scarsa qualità in centro campo forse non conviene lui ma conveniamo noi e allora a questo punto bisogna chiedersi a maggior ragione quanto male sia stato gestito questo caso Sneijder cioè c'è in caso un campione magari che è al 70% però tu non puoi sì proprio un giocatore che comunque faceva la differenza che non puoi quando voleva lui faceva la differenza l'ultima volta che ha fatto la differenza è nel 2010 aveva anche più capelli in testa ma tu non puoi venire sostenere l'ipocrisia che Sneijder non gioca per scelta tedica perché è un prendere in giro la gente perché sappiamo che non è questo il problema dopodiché se noi mettiamo in contraposizione Sneijder con il centrocampista dell'Inter Sneijder ripeto Sneijder del 50% per scelta tecnica farà sempre più in assoluto non sono pericolose però le dichiarazioni di Moratti Scusa l'ultimo per chiudere Moratti che comunque già a fine dicembre dice per lo scudetto non ci crediamo neanche più a questo punto secondo me le cose sono due o bleffa o bleffa sostanzialmente eccola qua intanto la dichiarazione infatti Stramaccioni gli risponde da come dire da non si può dire la parolaccia però lui è quella robaria è paraculo cioè Stramaccioni è uno che sa andare a captare la benevolenza del pubblico interista quando serve partendo in contropiede è molto molto bravo io non sono tuttora convinto della orrida pochezza di cui parla Besano nei confronti dell'Inter e sono convinto che l'Inter sia l'anti-Juve e sono convinto che la Juve non ha ancora vinto lo scudetto quindi questo è il tatticismo a mio avviso potrebbe bastare una come dire un cambio di passo di scenario con Snyder che magari tocca casa o un vice milito per parlare di scudetto vediamo le due idee a confronto Moratti Stramaccioni Andrea il presidente vede nero dice Gazzetta.it ci sarebbe una più fortuna ma ripartiremo questo il virgolettato di Moratti mentre Stramaccioni risponde non siamo al meglio per fortuna c'è la sosta ma stiamo gettando le basi per qualcosa di importante anche Stramaccioni ha parlato di mercato dopo ne parliamo con Volevo concludere rispetto ai punti che avete messo a fuoco voi giustamente tanto voglio ricordare che io qui avevo previsto l'Inter quinta e quando vedevo l'Inter quinta 23 agosto l'Inter arriverà quinta quando l'ho vista a seconda addirittura che io alla Juve ho detto bene mi sono sbagliato mi sono cosparso il capo di cenere come usa dire felicemente mi sono ricreduto mi sono dovuto ricredere in realtà mi sa che andiamo verso il mio pronostico allora a quel punto aggiungerei trattino gioco ancora assente aggiungerei la propensione di Stramaccioni che pure stimo a fare un po' il fenomeno uso la stessa espressione che ho usato la settimana scorsa ovvero a incidere eccessivamente sulla gara con mosse che spesso risultano cervellottiche brevissimamente in Coppa Italia è riuscito nell'impresa di sostituire inutilmente dei giocatori fino a trovarsi nella condizione ridicola ridicola di dover mandare in porta per gli ultimi 10 minuti un giocatore il giocatore Palassio l'altro ieri sera in un contesto tattico mezzogiorno mezzogiorno sì insomma no hai ragione ho visto tante quelle partite che sono pesanti aspetta ho finito quando sono giovani perché sono giovani quando sono vecchi fammela finire ti sei mai contento te sei veramente mai contento l'altro giorno in un contesto tattico già confuso cioè sei sei deponente alla tristezza sei triste ho dovuto sei triste triste ma perché sei triste è un campionato in cui tutti possono vincere e perdere con chiunque faccio come per uscroni da giletti che stava andando io ti lascio andare no anche io tu mi tieni qui in un contesto tattico sei confuso già già di partenza sì però non voglio fare come la d'Urso lasciarti parlare quindi facciamo parlare un po' tutti dai il signor Stramaccioni che ripeto stimo di base ma deve darci una calmata mi ha fatto vedere mi ha inflitto l'umiliazione di un Kivu che fa il centrocampista davanti alla difesa forse non c'era l'alternative l'ha fatto che Murillo in certe situazioni estreme va bene non si possono non si possono fare rivedendo la classifica di Serie A Alessandro quanto crescono i rammarichi da parte della Juventus per non aver vinto o comunque non aver ottenuto un risultato positivo contro l'Inter probabilmente portando a casa un pareggio in quella partita la strada sarebbe stata veramente spianata per la Juve quella partita è stata insomma vinta con merito all'Inter alla fine ma ti dico la Juve sta vincendo il campionato con le piccole quest'anno ha vinto tantissime partite l'anno scorso non ha mai perso però non si vedono più i pareggi uno a uno col Bologna questo è stato gli auguri di Buon Natale e la parte di Kivu per fatti a pesante sul sito ufficiale ho detto che allegra che faccia allegra auguri ho detto che non può giocare in quel ruolo lì perché veramente prende in giro l'abbiamo capito vai vai l'avete capito perché non avete conto parlate di altre copre è di calcio qui ho visto delle cose interessante le altre balbettano prima l'una poi l'altra adesso è di moda dire che la Roma la Juventus non è la Juve ha vinto si garantia un altro punto sembra che possa morire di se stessa medesima la Juventus in questo momento ma basta poco per rimettere tutto in discussione è molto simile al campionato vinto dal Milan chiudiamo però visto che vedo un Bezana particolarmente preoccupato a Storia ha fatto 124 partite senza un'espulsione una sola guarda a caso l'altra sera va bene hai cambiato la partita Niccolò obiettivi mercato intra non è che ti puoi sempre appigliare per agli eroi no no non intendevo la mia battuta il Cagliari non ha fatto neanche un tiro in porta al posto di Buffon poteva giocare va bene di pubblicamente che non è che stai anche tu dietro alla manfrina del vento del nord assolutamente no mercato inter mercato inter Niccolò no però veramente Giancarlo faccio fatica scusa c'è un nome nuovo nel mercato dell'Inter è quello di Marco Borriello ci credi a questa ipotesi Niccolò è un'ipotesi che ci può stare perché sappiamo che Borriello ha litigato pesantemente con Rino Foschi ieri non si è neanche presentato a San Siro per vedere la gara dei suoi compagni ma è rimasto a casa sua nell'appartamento in zona Moscova anche con Del Neri Del Neri l'aveva richiamato pubblicamente nello spogliatoio per alcuni ritardi sappiamo che Borriello viva a Milano e fa da pendolare sull'asse Milano-Genova ogni giorno cosa che al Genova non piace anche se è stato autorizzato anche se è stato autorizzato da Preziosi infatti il caso nasce da questo fatto che Preziosi è autorizzato Borriello a vivere a Milano Foschi non è d'accordo lo voleva multare Del Neri l'ha escluso per certa tecnica lui non si è vice ministro a Borriello ha un ingaggio alto io credo più all'ipotesi Piniglia occhio anche ai Cardi che piace tantissimo a Marco Branca e che è in rottura con la Samp è stata data l'autorizzazione a partecipare al Mondiale Sudamericano Under 20 che ci sarà a metà gennaio ci teneva moltissimo anche la Roma ha fatto la stessa cosa con Marchignos Marchignos ha accettato a malincuore invece i Cardi adesso non ha accettato il suo procuratore chi prende l'Inter? esatto chi prende l'Inter? una punta i tre nomi di un uomo quale di quelli lì? Piniglia è quello più facile da prendere perché costa meno i Cardi comunque è un gioiello la priorità è la punta rispetto al centrocampista? il centrocampista più o altro ci sono un'ipotesi in questo momento che è stata impostata quella di Paolino che però si è raffreddata molto sia per le dichiarazioni del giocatore sia anche per il costo del cartellino 10 milioni di euro non trattabili e sui quali l'Inter non è convintissimo e sappiamo che comunque il Corinthians non ha bisogno di soldi tanto che è pronto a investire su Pato nonostante abbia appena vinto la Coppa con Piniglia e Boriello con Boriello e Boriello ci sono già dei primi dettagli sulla trattativa che potrebbe portare Boriello a Milano perché potrebbe rientrare appunto Marco Boriello nella trattativa che porterebbe Silvestre a Genova poi si parlava tanto di Brasile prima col Milan adesso con l'Inter questo è un giocatore inarrivabile si tratta di Neymar anche il Manchester City è sul brasiliano perché il DS appunto dei Citizens è volato in Brasile per trattare il giocatore che sembrava diretto al Barcellona Boriello è furibondo perché c'è una controfigura sua che gira per Milano e fa le ore piccole e spesso gli addirittano è Eusebio guardalo c'è una controfigura io non so chi sia c'è una controfigura Boriello è furibondo perché lo vedo dappertutto perché lui invece è bravo perché Boriello fa vita perché è uno che va a dormire alle 9 ogni sera c'è una sua controfigura che si aggira tra Hollywood old fashion secondo me è Eusebio è Eusebio è brutto come Boriello attenzione Boriello ha detto qui c'è qualcuno che si spaccia per menzire va bene tra poco il mercato della Juve è molto altro ancora pubblicità rieccoci tra poco parleremo anche di mercato Juve prima però c'è una notizia che riguarda uno degli attaccanti europei più forti che era stato anche cercato da alcuni club italiani Andrea Eusebio c'è una notizia che riguarda Untelar sì è Classian Untelar appunto che poche ore fa ha rinnovato col suo Schalke 04 fino al giugno del 2015 quindi diciamo che il regalo di cui parla Stramaccioni ecco qui la notizia riporta da fcinternews.it non sarà appunto l'attaccante che tanto bene sta facendo in Germania un ex rosso nero che non arriverà alla corte di Moratti ma è fatto bene a parlare di quell'intervista lì anche perché voglio dire Stramaccioni a questo punto a pochi giorni dal mercato insomma ha detto chiaramente che gli servono insomma prematuramente dei rinforzi prematuramente scaricato dal Milan secondo me il Milan non ha creduto in Untelar mai ha sbagliato perché è un uomo che fa gol Niccolò Schira il mercato della Juventus facciamo un attimo il punto sulle trattative Juve che è sempre una ricerca in primis di un difensore dopo l'infortunio potrebbero essere anche due questa è la novità potrebbero essere due adesso vediamo la grafica Peluso viene considerato comunque un giocatore che può disimpegnarsi egregiamente anche come laterale sinistro sappiamo Casamo andrà via per un mese la trattativa è molto calda l'accordo col giocatore su Enturas c'è già c'è un piccolo problema con l'Atalanta la Juve avrebbe offerto un milione e mezzo per il prestito quindi molto oneroso un prestito semestrale un milione e mezzo con diritto di riscatto tra e mezzo e giugno l'Atalanta invece vorrebbe completare una cessione definitiva intorno ai 5-6 milioni però le parti sono molto sono molto vicine il difensore giovane da crescere sono due nomi che piacciono tantissimo a Beppe Marotta uno è Danilo lo vediamo nella grafica però anche in questo caso come per Benatial Milan l'Udinese ha detto non se ne parla a giugno oppure Neto del Siena che sta facendo molto bene però ha un bel costo sì Antonelli chiede 8 milioni anche in quel caso la Juve vorrebbe optare per un prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto già fissato a 6 e mezzo c'è un nome fra queste Alessandro che li stuzzica particolarmente che potrebbe servire davvero contrariamente a quello che c'è a Bezano comunque Peluso può giocare anche a centrale sì la difesa a tre sì ma per non ascoltare no no come no io ascolto è il mio benchmark no 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 per favore che se non capite nel 2014 si diventa punto interrogativo sull'azione di Pisano vabbè è chiaro che ho detto che Campagnano mi sembra l'ho visto anche nella grafica dell'Inter ma mi sembra insomma dura che il Napoli si è privito per il Cannavale che sarebbe Armero sì vabbè Armero partirà al mercato di gennaio destinazione Giuseppe beh Milan è l'ipotesi più calda eppure il Galliano è stato molto freddo ma prima parlavo di Lero hanno smettito anche ma scusa perché non l'ha detto prima costa almeno 15-20 milioni Armero si è svalutato tantissimo a 8 cash lo dà via subito lo prendi Jacobone Armero ti posso dire che Armero ha avuto anche un problema un po' strano che non è riuscito a farsi commutare la pena per guida in stato di ebrezza a un tempo fa in servizi sociali perché stante la sua professione non riusciva a fare attività sociale da nessuna parte quindi se lo volete a fare a città sociale a Milano magari ve lo diamo a prendere e farlo dal badante a Presidente farlo fare dal badante a Malmina sta diventando riformatorio tutti i ragazzi un po' difficili potrebbero andare lì non lo so chiedo non è un ragazzo di fiume uno che viene pizzicato voi comunque continuate a essere sul triste ma queste società italiane finalmente hanno messo a posto i conti ma non vi rendete conto di questa cosa li hanno messi a posto ma sono tutti in rosso fa il bravo ci sono società molto virtuose in tutta la parte me lo scudo di schiera Armero verso la Juve visto che la Juve è la ricerca di un esterno la Juve l'aveva contattato soprattutto quest'estate ma poi di fatto non ci fu l'accordo anche perché la Juve aveva già acquistato Isle a Samoa voleva tentare di prendere Armero con un prestito con diritto di riscatto sappiamo che Udinese giustamente è una bottega cara in pozzo i gioielli se li fa parlare ma dove lo metti Armero a parte che mi devi spiegare perché parlavamo di Milan prima e tu? sì perché c'era nella grafica stava parlando di Giacomini mi devi spiegare adesso una cosa per voi perché il Milan si preoccupa di prendere Armero perché comunque anche a sinistra hanno dei problemi adesso che è esploso o almeno sembra essere esploso Constant sulla sinistra abbiamo il Sharavi che va a centrarsi quindi in conseguenza questo l'hanno paragonato al nuovo Serginio mi è venuta veramente scusa ma già non ho capelli mi è venuta la lopecia dove la vendetta è ragno Stefano e ragno ed io sosteniamo da tempo che il Milan l'esterno sinistro basso c'è la riccava ed è Emanuele ho detto Stefano Eranio ed io io vorrei vorrei notare Stefano Eranio ed io abbiamo da tempo sponsorizzato l'utilizzo di Emanueson come Stefano sinistro che Allegri considera Emanueson un esterno sinistro se Allegri si capisce poco se lo considerano messare il problema di Allegri vanno a prendere Armero anche la società probabilmente avvalla le decisioni di Allegri se no qualcuno avrebbe potuto dire al mister ha ragione Marocchi bravo Marocchi devi comprare un difensore centrale ma guarda basta non ti sta guardando non me ne frega a tutto non soffia nessuno a Giancarlo Marocchi allora quando tu fai una citazione devi dire se ti dicono io si sta da autunno le foglie devo dire che non c'è non sono credibile se dici sempre che l'amore mi fu un esterno colle devi dire che è poeta non posso citare dire una cosa che non è mia io non uso questo cito la funta allora andiamo a vedere la dichiarazione di Buffon di oggi che ha partecipato a un'asta benefica perché Buffon dice che il campionato è ancora aperto Andrè aperto da Sky da microfono di Sky Buffon ha detto che ce ne sono tante di anti-Juve sotto l'abbero manca l'anti-Juve gli viene chiesto ma ce ne sono tanti dice lui e sono talmente tanti che non si sa chi scegliere ma è l'anti-Juve e la Juve lo sappiamo solo la Juve può perdere questo campionato che può morire di se stessa medesima che può di se stessa medesima morire citazione franca no davvero facendo ragionamento serio guardando anche la classifica non riusciamo a trovare una squadra che possa avere un minimo di continuità per poter andare a mettere in difficoltà la Juve poi è diventata l'Inter adesso è diventata la bella Fiorentina che è bella però anche un po' così spesso si perde nella sua bellezza adesso diremo che i numeri dicono che la Lazio è l'anti-Juve e la verità è che la Juve la Juve può perdere ripeto seriamente può perdere da sola questo campionato cioè si può immolare se proprio succedono patatrac va bene mi ha letto del pensiero Andrea Eusebio perché oggi ho parlato Mauri della Lazio Andrea esattamente lui dice sul suo sito personale tre punti in trasferta su un campo non facile riferendosi alla vittoria dello scorso turno di campionato sorpasso all'Inter e secondo posto una grande Lazio così forse cominceranno a parlare anche di noi no quando parla è il momento che vanno indietro bisogna fare un elogio pubblico secondo me invece a Pettico questo allenatore qui mi piace moltissimo a parte che hai imparato in 448 sai che è il sosio di un nostro amico Riccardo Riccardo Guffanti io a volte penso che salutiamo Guffanti ma davvero questo è un allenatore che ha una no mi piace perché è quadrata anche nell'interno di creazione post partita è sempre molto misurato mi sembra che vi manda la situazione e sta tirando fuori col traio di Zeeman per rimanere nella capitale sono due atteggiamenti molto diversi però onestamente Guffanti questo non è Petkovic questo è Guffanti no lo dico per il popolo come assomiglia impressionante comunque lui davvero questo Petkovic qui ha tirato fuori il massimo organico che non è non è la testa di quelli che la Roma dell'Intero modulo chiaro da subito 4-5-1 chiaro si gioca così scelte precise quando il signor Hernanes si dimentica che bisogna giocare a calcio che il calcio con Cretessa lo prende lo mette in panchina insomma è bravo ha tirato fuori un tale Cavanda che ne faceva di più di Carlo in Francia è riuscito a diventare un giocatore di Cavanda questo è un bravo allenatore potete allentare i bambioni vesari sono preoccupato perché cosa c'è mancanza di ossigeno no no perché potete dire qualcosa quanto a quello che ho sostenuto no fai girare sulla tua prestazione no perché come dire come dire Fescovic e io no 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 ho detto esatto Eranio ed io come direi anche Stramaccioni e io solo che Stramaccioni fa giocare Kivu come se fosse Pirlo io neanche sotto tortura va bene va bene dobbiamo andare a vedere silenzio che devo lanciare il super spot andiamo a vedere il super spot di Marocchi io rieccoci andiamo subito da Andrea per fare il punto sulla trattativa a Peluso perché a questo punto ci sono delle novità da Bergamo Andrea Sì in realtà sono stato attratto da un'altra notizia mentre eravamo in pubblicità perché dal Portogallo parlano di Higuain la Juve torna su Higuain mi perdonerai se ho lasciato un attimo perdere la pista a Peluso ah ok va bene esattamente un giornalista l'ugoliano portoghese a Bola appunto parla di una Juve che sarebbe tornata prepotentemente su Gonzalo Higuain ma perché vende dal Portogallo la notizia molto spesso comunque ci sono ci sono queste voci anche perché comunque si vocifera che Gonzalo Higuain potrebbe cambiare procuratore lasciando Orghe Cisterpida per passare nella scuderia di Orghe anche perché ci sono buoni rapporti fra Higuain e Cristiano Ronaldo dicono Cristiano Ronaldo qualcuno dice che potrebbe tornare in Inghilterra invece Andrea Peluso mi interessa Stefano per individare il tempo di andare a prendere la pagina ma capito qui leggo una notizia su Peluso e su Guain su Guain su Guain rispettando l'autorevole Fonte Diabola andiamoci cauti perché comunque Real Madrid lo valutava 40 milioni solo per il cartellino e oggi come oggi sappiamo che in Italia purtroppo ai noi abbiamo recuperato la notizia di Peluso Pesano eccola qua si è riportata dall'Eco di Bergamo dicono che Peluso ovviamente giudicandolo per la partita contro l'Udinese ha confermato le sue qualità peccato dicono a Bergamo che l'Eco di Bergamo che abbia già la valigia in mano destinazione l'attendibile Ecco di Bergamo dice che Peluso ha la valigia in mano L'Eco di Bergamo e io l'avevo detto prima però va bene continueremo a sorridere davvero dopo la pubblicità perché abbiamo preparato tanti sondaggini davvero interessanti tra l'altro sulla nostra fanpage di Facebook abbiamo chiesto se piace il mio clavattino chi è lo pionista dell'anno si vince a mani bassa Rieccoci in diretta con Campionato dei Campioni andiamo a vedere per cortesia abbiamo fatto dei piccoli sondaggi proprio per voi amici a casa naturalmente anche nei giorni di vacanze noi torneremo il 6 gennaio ma potrete interagire con noi sulla nostra fanpage di Facebook Campionato dei Campioni Odeon TV allora il primo quesito del 2012 sembra il più scontato ma magari per qualcuno di voi o per qualcuno di noi qui in studio non lo è i promossi e i bocciati del 2012 partiamo dalla squadra migliore perché tutti diranno che la Juventus che ha vinto il titolo che ha vinto anche il titolo d'inverno del campionato 2012-2013 merita di essere nominata come la migliore squadra del 2012 però molti amici da casa ci hanno detto sì però attenzione anche il Napoli ha combattuto bene ha fatto bene nella passata stagione ha vinto anche la Coppa Italia contro la Juve il Milan l'italiana che è andata più avanti nella Champions nella passata stagione e che è stata la prima perché sorridi e poi magari l'Inter con il suo progetto dei giovani le due sono due regali di Natale ridevo per la strena natalissima il punto 4 dai ma dai la Juventus la Juventus per tutti Juventus Facchini Fiorentina Fiorentina proprio a parte di stagione quasi andava tu devi valutare il 2012 l'anno solare ecco Jacobone mi sembra quando sei a fine anno farei giochetti che non ha capito il senso del gioco il gioco del 2012 posso avere un'idea anno solare questo è stato sufficiente l'anno solare Fiorentina Tariaco Buone Facchini sono d'accordo con Alessandro e lo sostanzio anche la Fiorentina è stata la squadra che ha saputo fare la maggior crescita del 2012 dalle ceneri di una situazione che finiva a schiaffi tra Delio Rossi e Liaic e non per dire a un progetto tecnico tattico e sportivo che sta incantando l'Italia in casa e fuori casa sta diventando veramente un top team perché ha un centrocampo che nessuno in Italia secondo me nemmeno la Juve nemmeno la Juve in difesa a due signori come Roncaglia e l'altro suo compagno Rodriguez che sono due signori giocatori e attenzione davanti perché Jovetic è il miglior giocatore che c'è in Italia dopo un'anni secondo me e Elamdawi non è un brocco non è un brocco e nonostante tutto il terzo incomodo è un campione del mondo che ha ricominciato a finire quindi per me la vera squadra del 2012 perché bisogna anche nello sport come nella vita bisogna sapere anche da dove si parte e dove si arriva secondo me una grande evoluzione che la fa la squadra dell'anno è stata quella fatta fammi finire Niccolò è stata quella fatta dalla Fiorentina Niccolò premierai per questo discorso se non vogliamo uscire un po' dal solito seminato delle grandi squadre ha fatto un 2012 straordinario sia l'anno scorso che quest'anno il Catania giocando molto bene valorizzando tanti giovani è andato via allo Monaco si pensava che si dovesse sfaldare il progetto Etneo e invece anche quest'anno sono a ridosso dell'Europa League praticando anche un ottimo calcio pure perdendo un grande allenatore come Montella che è andato a far bene a Firenze ma hanno lanciato Maran che veniva state facendo delle poesie la domanda è chiarissima la miglior squadra del 2012 i numeri la Juve la Juve dell'ex Marocchi la Juve siamo qui a dire che ha battuto tutti i record ha battuto il record della Juve di Cappello ha fatto meglio di tutti ci sono le statistiche mi fate una domanda e devo sentirmi dire quindi Marocchi sembra un mimo Juve e Ed Fiorentina sai che diceva Ed Fiorentina il presidente dell'interno Pellegrini andiamo da Andrea mi spiace la pensa Giancarlo da casa perché dice la Juve indubbiamente sondaggio chiuso parla di numeri poi c'è anche Thomas che però dice per me lo è sempre il grande Milan quindi manifestazione Gio ci scrive l'udinese perché con poco riceve sempre tanto ed esprime sempre quasi un bel carico complimenti alla società e non solo c'era Marico che è rammarico cazzata autorete terrificante dopo ho una chicchina sull'udinese speriamo vediamo che un po' chiudino i messaggi da casa perché la Juve la mia squadra si l'hai già detto perché Erwin ci scrive tagliavento in company per tutto quello che hanno potuto falsare pur di far vincere la Juve va bene ci sarà da discutere magari un pelo di più nel prossimo quesito che vi poniamo il portiere del 2012 magari in questo caso non sarete tutti d'accordo andiamo a vedere i cinque portieri che abbiamo preparato le nomination Buffon della Juventus De Santis del Napoli Marchetti della Lazio autore di una seconda parte di stagione straordinaria consigli dell'Atalanta forse le nomination dei più giovani e Andanovic che per qualcuno addirittura è uno dei migliori portieri d'Europa metà stagione dell'Udinese metà stagione dell'Inter Besana sto con Andanovic che ha fatto molto bene all'Udinese e sta facendo molto bene all'Inter Alessandro il parere dello Juventino mi tengo il mio cioè tengo Buffonzi comunque Niccolò abbiamo dimenticato qualcuno? no credo che in linea di massima siano questi i portieri che hanno fatto meglio secondo me per il 2012 premierai Andanovic perché è stato protagonista del terzo posto dell'Udinese e poi si è confermato un grande portiere all'Inter sappiamo che molto spesso non è facile fare il salto di qualità dalla provincia e poi anche il nazionale sta facendo bene studia lui studia allora Andano Schira e Faschini molto più giù Andanovic il giovane del Pescara Perin mi piace da morire sono d'accordo con Besana a 19 anni ma come dice Besana il portiere anche giovane certi errori non deve fare perché lui in un cremonese Monza vide Sirigu e disse questo è un portiere forte da lì Sirigu e Besana Besana e Faschini e Faschini Jacopone abbiamo dimenticato qualche portiere del Milan? concordo su Andanovic anche se è l'impatto più grosso e Marchetti che poteva venire al Milan era vicinissimo al Milan Marchetti è un portiere anche Consigli è stato vicino al Milan in passato sì anche quest'anno non ha parlato il suo agente Andrea D'Amico l'ha proposto però anche qui costa molto più facile che Perinzio e futura va bene dobbiamo volare ragazzi andiamo un flash da Andrea cosa dicono da casa? i nostri telespettatori si dividono fra Buffon Marchetti e Andanovic leggermente più staccato c'è Giancarlo che ci dice Buffon da 20 anni e poi invece Rosario Merola diciamo tutte le generalità che dice mio fratello quindi segnatemi lui il Merolone il Merolone ci fu un tempo di Merolone lo sappiamo lo sappiamo è vero scusate sappiamo anche che tu segui molto queste cose di Merolone mi piaceva Andrea il tuo portiere preferito per questo 2012? Marchetti Marchetti che però è un po' alterno è bravissimo fa delle cose strepitose comunque è un portiere un po' troppo alterno non troppo bravo nelle uscite secondo me va bene andiamo ai difensori siamo pronti con i difensori miglior difensore dell'anno per il 2012 magari qui dobbiamo fare delle aggiunte abbiamo discusso molto oggi in redazione Chiellini Juventus Campagnano Napoli Samuel dell'Inter Danilo dell'Udinese e Paletta del Parma che è stato suggerito dal nostro Luca Servadè effettivamente ha una media voti alta e poi è un giocatore che bene ma vi siete dimenticati Barzagli abbiamo cercato di metterne soltanto uno per ogni squadra ovviamente per i centrocampisti abbiamo dovuto fare qualche aggiunta qualcosa un po' di più per la Juventus Barzagli secondo me è stato più di Chiellini sì Barzagli ha fatto anche uno straordinario europeo ed è il vero leader della difesa della Juve Chiellini a volte è più vistoso perché ha anche grande temperamento trascina la squadra ringa ai tifosi però Barzagli ha fatto veramente un'annata straordinaria ricordiamoci che la Juve due anni fa l'ha preso per 300.000 euro era uno scarto del Volf è stata un'operazione straordinaria non so scusa no 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 rispetto a quei cinque lì stavo pensando qualche alternativa sono d'accordissimo anch'io che Barzagli che è un giocatore pochissimo sponsorizzato stupidamente anche lasciato andare quasi gratis dalla Germania è imitato invece una vera autentica colonna quindi sto con il mio amico pokerista e con Nico e dico anch'io Barzagli Jacobone il centrale del Torino Ogbonna secondo me come si si valuta il 2012 Ogbonna nei primi sei mesi giocava in Serie B ma sottofondo cosa è un micro colpa sua ma che va perché non c'è veduto va bene facchini noi abbiamo messo anche Danilo allora Ogbonna anch'io ma perché devo dire ci sono cinque le minoranze difendere minoranze ha fatto sei mesi se nevi tre mesi infortunato e rientrato a fatica siamo sicuri che sia questo fenomeno perché io ho visto spesso anche in Serie B è un buon difensore ma non mi sembra adesso rispetto a Milano e te lo incontro all'Hollywood è pericoloso è un ciocciaro di Frosinone simpaticissimo ritratta Andrea ha anche la tua idea allora vince per distacco Barzagli ah la mia idea sì Barzagli Barzagli così mellino va bene stiamo in forma dai chiudiamo Andrea a casa dice per distacco Barzagli c'è Robert che nomina Biava dice nessuno lo prenderà in considerazione ma è vero io seguo tutte le partite della Lazio ed è sempre tra i migliori peccato sia un po' avanti con gli anni mi verrebbe da dire Aaronica no no poi non ironizzare si spunta inevitabilmente fuori il nome di Tiago Silva fino a quanto meno a giugno e poi Giorgio ci nomina Antonini Tiago Silva ha scritto Jacobone no Biava una volta mi chiese a una cena mi disse perché non mi porta a Monza giocava in Cina il Como il Monza era in B e mi dico perché non faccio il procuratore disse io e poi dicevo questo qui cosa vuole Biava è un amico di Pesana va bene era in pubblicità poi diremmo che è stato il miglior centrocapista l'attaccante la squadra il giovane rivela pubblicità tra poco rieccoci prima di proseguire con i nostri sondaggini andiamo a vedere per cortesia le quote e bettera perché si scommette anche durante le vacanze con la vincente della Champions League in questa grafica vediamo che favorito è Real Madrid che prima è stato nominato da Giancarlo a 5,50 la Juve sta adesso la vediamo la Juve a 7 il Bayern Monaco a 8 il Paris Saint Germain a 15 il Barça sarà a 3,5 il Barça vediamo anche la seconda schermata per cortesia eccolo qua bravo Alessandro sempre sul tezzo il Barcellona a 3,25 ma lo scommetteresti il Barcellona a 3,25 no 3,25 la quota non è neanche il match non è mai la quota però io mi sono fissato sul convinto sul Real Madrid sul Real Madrid vediamo anche un'altra grafica se non sbaglio la vincente della Serie A Juventus 1,20 ragazzi la quota della Juventus è ingiocabile ve lo dice un esperto ecco l'anti Juve però qui indicata nell'Inter a 12 Facchini io lo vado a dire è quel tristerrimo di Lichesana che sembra che tifi che sembra che tifi per la Fragolese con tutto rispetto per la Fragolese better.it mi raccomando con tutte le quote Andrea nell'elenco per le vincenti della Champions dato da better ovviamente non c'è il Chelsea eliminato dalla Juve nel giro eliminatorio Chelsea che però quest'oggi ha battuto con un roboante 8-0 in Laston Villa quindi diciamo che Benitez può trascorrere un Natale più sereno del previsto anche dopo la sconfitta in finale del Mondiale c'è un Lampardy in uscita diretto ai Los Angeles Galaxy chiude la carriera in America devo vedere anche il Munacup perché è l'America che lo voglia fortemente dal West Ham al Chelsea ha fatto una telefonata allora top 5 il centrocampista dell'anno e qui la Juve non potevamo non metterne tutti e tre perché Pirlo Marchesio Vidal già quella è una bella lotta poi per far numero tra i primi cinque abbiamo messo anche Diamanti e Amsic che di fatto non è un centrocampista perché gioca sempre più spesso come attaccante c'è qualcuno in studio che vuole uscire da questi cinque nomi o che non vuole votare i primi tre della Juventus io sono banale Pirlo tutta la vita Pirlo tutta la vita Alessandro sì 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 anche per la conduzione dell'europeo ah ben vero Niccolò sì sicuramente Pirlo è in dubbio anche se merita una citazione una sottolineatura anche Vidal perché era arrivato dall'estero tante volte gli stranieri non si ambientano invece è diventato il padrone della Juventus è anche difficile da sostituire Alessandro Iacobone Pirlo assolutamente Pirlo Facchini Diamanti Diamanti perché la provincia mi piace esprime di solito dei valori Diamanti è anche uno che ha avuto due o tre vite calcistiche quindi si è veramente imposto all'attenzione anche gli europei ha fatto bene assolutamente chiude Andrea per me è Marchisio anche se da casa Stefano lotta due fra Vidal e Nocerino che non compare che non compare in questa lista più attenti di noi i nostri tre spettatori 10 gol 10 gol Paola che è l'unico femminile che appare nei nostri commenti dice Marchisio che è il numero uno al mondo forse non ci sarà molta lotta per quanto riguarda per quanto riguarda gli attaccanti li andiamo cortesemente a vedere abbiamo messo in nomination Cavani del Napoli Milito dell'Inter Closi della Lazio Di Natale dell'Udinese e Totti della Roma perché ha chiuso davvero molto bene questo 2012 Alessandro sembra di sparare sulla croce rossa e Cavani cioè il 2012 ma anche con valore assoluto di calcio io adoro di Natale infatti è il mio punto fermo del fantacalcio da quando fece la doppietta in Udinese e Regina 2 a 0 fece un gol impossibile che sono molti anni di Agostino Besana ti lascia il tempo a ripensare Nicolò beh sicuramente di questa cinquina è più forte di tutti e Cavani però quello più determinante per la sua squadra paradossalmente è Closè che è insostituibile per la Lazio Alessandro volevo dire la stessa cosa ti hai rubato le parole Facchini il tuo di Natale o altri? c'è uno fuoriclasse nel campionato italiano dai Cavani e l'altro è di Natale ok Besana io citazione per Milito che dato per finito tant'è che tutti diserano ci sarebbe dovuto vendere prima l'Inter ha sbagliato eccetera eccetera in una stagione un anno solare non felice per la squadra non felicissimo ha messo a segno mi pare 24 gol velocissimi Andrea sì penso sia grave però sono d'accordo con Besana perché Milito si è risollevato alla grandissima nel 2012 dopo un inizio di inverno veramente difficile da casa cosa voglio dire? no Andrea e io Andrea Cavani Closè lotta 2 da casa Giorgio nomina Del Piero va bene vi chiedo di essere davvero telegrafici la rivelazione invece la rivelazione di questo 2012 magari qui avrete delle aggiunte da fare De Sciglio difensore del Milan Verratti Pescara Paris Saint Germain Juan Jesus dell'Inter destro Siena e Roma ed El Sarawi del Milan Alessandro El Sarawi Besana El Sarawi Marco Verratti Verratti Iacob Siamo a tre per El Sarawi Facchini Spariglio dico Juan Jesus un difensore veramente dal tempismo soprattutto la capacità di fare l'anticipo è incredibile cioè sembra un centrale tedesco europeo ed è uno che ha un margine di miglioramento terrificante Andrea Eusebio che non deve prendere a modello l'ultimo Luscio quello che parla al piede la tua preferenza è il parere da casa io dico il 2012 al Sarawi e lo dicono anche da casa secondo posto Vidal secondo posto Vidal come rivelazione non si aspettavano e qui siamo e qui siamo soprattutto la seconda parte di stagione davvero incredibile allora andiamo al bidone d'oro invece il giocatore peggiore di questo 2012 Giancarlo Besan nel primo posto no io te lo voglio sì no Alexandre Pato poi il Luscio due recessioni consecutivi Alvarez Edu Vargas che era arrivato a Napoli con tante aspettative pagate 12 milioni di euro poi Facchini ma è cos'era lo sparate sulla casa ma l'ho dovuto inserire voi avete un un orri da pochezza non capite la poesia di quella di quel rigore a cucchiaio che non è per quello che l'Udinese è stata eliminata in Champions ma per ben altri motivi per una specie di suicidio fatto in sede di mercato che io ho detto e ridetto cioè si poteva veramente allestire bastava qualche cosina e al posto del Braga potevamo andare a scorazzare noi in Europa ma non si può sparare su questo ragazzo che ha avuto un coraggio da leone e poi sarà stato come dire chi è il tuo bidone Francesco? il mio bidone fammi rivedere la lista adesso la rivediamo magari ne hai altri ma Besano è un bel bidone ah no scusa è vero no vabbè Pato è interessante però il vero bidone se non sbaglio tra l'altro Pato ha vinto proprio il bidone d'oro ufficiale 2012 l'ha vinto Pato non vorrei dire una stupidata il bidone d'oro mio è Lucio Lucio un vero ignorante tattico ignorante tattico il Lucio dell'ultimo anno sì ahimè non lo venderai mai ma Pato Niccolò chi manca da questa lista? anche Silvestre insomma non è stata un'operazione anche se i primi sei mesi a Palermo l'ha fatto Benino anche lì secondo me lui ha goduto molto di buona stampa perché poi il Palermo ha avuto la peggiore difesa del campionato te la prendi con Silvestre e allora Sneijder? e io dico aggiungete Sneijder ma Sneijder è arrivato un giocatore di qualità no 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 attenzione qui non si parla di pochi assoluti infatti qui si parla di rendimento di rendimento nell'anno solare e Sneijder purtroppo che a parte il discorso che è stato che è partita da fare Sneijder purtroppo non l'ha mai presa probabilmente non la rivedremo più Alessandro poi andiamo ad Andrea non è Enrico Alvarez secondo me sono stati cioè io lo terrei lì lì bene e vabbè Pato sembra un po' facile va bene Andrea il tuo parere è nemici da casa Pato più che Vidone proprio cassa niente io dico anche Lucio per le dichiarazioni irriconoscenti nei confronti del palermo interista e lo scarso rendimento nelle quattro partite con la Juve anche se ho apprezzato la rescissione poteva anche rimanere in rosa prendendosi due milioni all'anno anche se in realtà rescisso prendeva due e tre e prenderà due e cento dal San Paolo e torna in Brasile non è che poi ha fatto proprio questo però è incredibile che l'abbia da casa da casa l'ombra di se stesso poi ricordano ancora Zé Eduardo il giocatore Zé Lov il giocatore che doveva andare a Milan e poi ci dicono Conte per la condanna non l'hanno perdonata va bene andiamo in pubblicità tra poco l'ultima parte di Campionato dei Campioni Rieccoci l'ultima parte di Campionato dei Campioni non ci resta che farevi veramente tanti auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie naturalmente io ringrazio i nostri ospiti Alessandro De Micheli Pokerstar.it Giancarlo Besana auguri a tutti il nostro esperto di mercato Niccolò Schira buon Natale a tutti Alessandro Iacovone auguri a tutti Francesco Facchini calciolabber.com posso dirne ora auguri a tutto lo studio a Valtorta ai boys assolutamente al buon Peduzzi grazie a te alla produzione assolutamente ci siamo sempre accolti a casa al nostro Andrea Eusebio qui con noi auguri grazie naturalmente mi accodo a Francesco Facchini un grosso augurio anche naturalmente ai nostri tecnici ai ragazzi che lavorano in redazione Luca Serabadei Alessandro Benazzi che aveva collaborato per la nostra trasmissione Gabriele Arlati Giovanni Capuano naturalmente anche Caterina Fulio Colovatti che ci stanno seguendo buon per loro da casa che fanno parte della nostra produzione grazie un abbraccio a tutti tanti auguri di buon Natale ci rivediamo il 6 gennaio auguri auguri